Cari amici, sono Pai. Nel nostro programma degli reperti archeologi cinesi di questa settimana parliamo di una maschera molto misteriosa della civiltà. Ma a proposito di maschera, sapete come si dice in cinese maschera? In cinese si dice Parleremo di una maschera molto misteriosa perché ha un aspetto sia come uomo, sia come animale e anche come una divinità. Ma precisamente di che cosa si tratta? Non mancate al mio prossimo programma.